La sanità in Puglia Il personale e qualsiasi cosa all'interno delle singole ASL della regione Puglia Al di là delle intercettazioni e quindi delle prove anche ambientali Che i magistrati stanno facendo proprie per poter ancora inseguire eventuali reati Commessi dall'ex assessore, ora senatore del Partito Democratico Alberto Tedesco Credo che la sanità meriti anche altre risposte Risposte che i cittadini vogliono di quello che potrebbe essere un buon servizio Di quelle che potrebbero essere le non file al pronto soccorso L'assenza di medicinali prioritarie importanti per far sopravvivere i pazienti Che a volte non vi sono nei vari nosocomi di Puglia Perché superato il tetto di spesa non si ha il denaro per poterlo acquistare Disfunzioni che poi gravano e pesano anche nella gestione complessiva della pubblica sanità L'altro giorno ho fatto un editoriale, ossia Nero su Bianco Partendo da una lettera inviatami dal personale ausiliario della società Sanità Service Che si preoccupa della pulizia di alcuni nosocomi Cosa mi veniva elencato? Una serie di problematiche che non solo sono subite dai dipendenti della Sanità Service Ma che poi si ritorcono sull'utenza, sul paziente Su coloro che purtroppo anche in questo periodo di ferie Un periodo così particolare vive per ovvi motivi negli ospedali Cosa mi denunciavano? L'assenza di scarpe antiscivolo L'assenza di prodotti per le pulizie E poi delle situazioni paradossali Ossia di ex coordinatrici Diventate poi dirigenti Grazie alle protezioni politiche bipartisan Già ho detto nello scorso editoriale Che non faccio il nome né delle ex coordinatrici Né dei protettori politici Però chiedo e l'ho già fatto E lo sottolineo nuovamente Che il direttore Caracciolo Il direttore di Sanità Service Ci faccia comprendere se sono illazioni o cose vere Quelle che mi hanno testimoniato E messo nero su bianco alcuni ausiliari Perché il direttore Caracciolo Non prende posizioni su queste disfunzioni Che poi provocano non solo forse un cattivo servizio all'utenza Ma anche per esempio lo spostamento di personale e lavoro extra Ad ausiliari che hanno contratti Pensate bene di due ore al giorno Rispetto ad altre tipologie di contratti Che forse vanno a salvaguardare qualche protetto E' sempre un'ipotesi la mia Non prendete per certo quanto mi hanno scritto gli ausiliari Con i quali ho parlato anche personalmente Per cui non sono, come dire, anonimi Ma attendo l'ufficialità Oppure attendo che qualche ausiliario Mi venga a dire che dopo la posizione Assunta pubblicamente E queste denunce fatte Sta cambiando qualcosa all'interno della Sanità Service Perché noi non vogliamo fare le denunce Punto Vogliamo che ogni parola sia presa in considerazione Per migliorare delle situazioni di gravità Così come ancora non ho ascoltato L'ex consigliere regionale Aldo Aloisi Che è il riferimento, il leader del Movimento Azzurro Popolare Lo stesso movimento Che ha come protagonista L'assessore provinciale Salvatore Perrone Che l'altro giorno mi ospita Ha fatto delle denunce gravissime A margine di quanto da lui affermato Ho anche contattato il direttore generale Della ASR di Lecce Mellone E successivamente ho parlato anche col direttore Sanapo Che hanno, presumo, visionato la trasmissione E credo e spero che stiano realmente intervenendo Cosa ha detto Perrone? Ha detto che nell'ospedale di Galatina Ricordate la denuncia fatta da De Maria Che alcuni soggetti medici e personale paramedico Assumevano della droga Cosa è avvenuto dopo questa denuncia? Che il direttore De Maria è stato semplicemente Come dire, spostato Ossia non svolge più quel ruolo Ma Perrone, l'assessore che ha fatto la denuncia Afferma che alcuna inchiesta è stata avviata All'interno dell'ospedale di Galatina E lui conoscerebbe i nomi di coloro Che assumono stupefacenti Altra denuncia fatta Primari che violano la legge costantemente E il direttore Mellone Ha affermato che se reali sono Queste dichiarazioni comprovate Sarebbe bene andare dalla magistratura Ecco perché chiamo in causa nuovamente Il leader del movimento Che sta curando questa sorta di indagine Inchiesta nella sanità salentina Affinché A prenda subito posizione Non si può attendere 15-20 giorni Se vi sono situazioni così pesanti E attendere i tempi della politica Per poi fare una conferenza stampa E rendere noto quanto magari Si è già a conoscenza Andare relazionale al direttore generale Anche perché appena giunto sul territorio Quindi magari ha anche interesse Ad ascoltare e a capire E a comprenderla ancora meglio E poi se tutto reale Passare un attimo dal tribunale Ed eventualmente avviare Tutte quelle che sono le procedure Per far pulizia Se è vero quanto affermato Dal movimento azzurro popolare E dello stesso assessore Perrone A domani Alla prossima Grazie a tutti.